Girare verso il sole, ma non in orizzontale, a parte che questo punto deve guardare sempre verso il sole, ma poi devi trovare l'angolo giusto dove vedi il sole nello specchio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sa che mi vada a comprare un gelato. Anche perché per fare un'ombra qua, cioè per farlo grosso, deve essere grosso. Grazie. 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 Grazie.